Oggi volevo fare due appunti sulla respirazione tantrica, ma prima seguimi e iscriviti ai miei corsi di tantra. Allora, la respirazione tantrica può essere sicuramente un supporto in più per vivere in modo più prolungato il piacere sotto le lenzuola, per conoscere meglio il mio corpo. E questo lo dico soprattutto agli uomini, a quegli uomini che hanno, diciamo, più difficoltà a durare di più. Tutta fondamentalmente di reimparare a respirare, questo lo potete applicare non solo nella sessualità, ma nella vita di tutti i giorni. Questo vi porterà a essere sicuramente più consci, più consapevoli del vostro corpo, più rilassati e meno stressati, se fatta con costanza, ovviamente. Non è assolutamente una roba complicata, si tratta quella base, quella basica, poi esistono quelle diaframmatiche, quelle circolari. Ce ne sono tante di respirazioni tantricche. Si fa così, vado a ispirare dal naso, poi riempio i miei polmoni d'aria, faccio una bella ispirazione, vado a riempire tutti i miei polmoni d'aria. E poi c'è l'espirazione dalla bocca. E lo devo fare in modo lento, ovviamente. Più lo farò durante le giornate, mi prendo uno spazio di 5 minuti per farlo, più mi abituerò a essere meno teso, meno rigido a livello corporeo, perché sapete che un'eccessiva rigidità corporea e muscolare purtroppo poi può anche, in parte, influire sulla durata in camera da letto. Se quindi vado ad applicare questa tecnica in modo costante, non esiterò poi a vedere dei miglioramenti sotto le lenzuola. E tra l'altro, questo tipo di lavoro va anche a supportare la cosiddetta connessione con la partner, perché mi vedrà, mi percepirà come più presente, come più consapevole, meno focalizzato sulla genitalità, ma più presente appunto nel momento, nel qui ed ora.